Io comincio da dove ha concluso la magnifica rettrice Donatella Asciutto ringraziando prima di tutto gli organizzatori Valerio De Molli che adesso non vedo ma questo non ha nessuna rilevanza perché io non ci vedo quindi c'è in sala? No, sì, comunque grazie a Valerio De Molli e a tutto lo staff che ci dà ogni anno l'opportunità di riflettere su noi stessi ma soprattutto di darci nuove soluzioni perché questo è poi l'obiettivo di queste nostre apparenti conversazioni che in realtà sono la creazione di migliori pratiche e su questo mi aggancerei direttore per rispondere alla sua domanda ringraziando la magnifica rettrice che mi ha creato una base straordinaria su cui poter identificare dei punti, c'è qualche bullet point. Fondamentale è la presenza dei colleghi Marina Calderone e Giuseppe Valditala perché come potete immaginare siamo strettamente interconnessi, direi che facciamo ecosistema orizzontale e verticale quindi quello che non fanno loro faccio io, quello che faccio io non fanno loro e molto spesso facciamo tutto insieme. Quindi esiste una separazione cronologica nella formazione, c'è una formazione superiore ma c'è una cosa che si chiama orientamento che è fondamentale anche nella diffusione dell'intelligenza artificiale che unisce me e Giuseppe anzi Giuseppe l'ha sottoscritta e che orienta proprio verso quella dicotomia se possibile ancora mantenerla tra materie STEM e materie umanistiche, scienze umane, che un tempo era assolutamente manichea, era una linea di demarcazione nettissima, ora non lo è più perché come ha ricordato anche la rettrice Sciutto, noi dobbiamo temperare il rigore e la stolidità dell'intelligenza artificiale o l'impazzimento mai creativo, solo generativo, mai innovativo per fortuna, solo generativo dell'intelligenza artificiale attraverso criteri etici, valoriali, filosofici, umanistici, giuridici, sociologici. Quindi tutto questo crea, come posso dire, un'ibridazione tra competenze, perché il tema è questo, adesso sto affrontando il tema competenze, direi competenze ricerca e infrastrutture, vorrei concludere così i miei dieci minuti per cercare di completare il commento a quello che ha detto Donatella, scusami se ti chiamo Donatella ma di solito ci chiamiamo così. È vero, le competenze sono in via di formazione, è altrettanto vero che anche il mondo è in via di evoluzione, con una velocità che io non voglio aggettivare in maniera negativizzante, alcuni dicono velocità frenetica fuoribonda, ma è una velocità nuova a cui noi ci dobbiamo adattare. Quindi dobbiamo creare dei parametri, delle guidelines e quando io dico dobbiamo intendo non solo il pubblico ma il pubblico e il privato, perché tutto questo, tutto quello che stiamo raccontando non sarà mai possibile se non attraverso un ecosistema, una vera joint, una vera collaborazione, un vero match tra pubblico, privato, territori, terzo settore, professionisti, da soli ora non si fa nulla. La ricetta vincente è nell'ibridazione, lo dicevano i botanici, il genio sta nell'ibridazione ed evidentemente avevano ragione, è una regola passe-partout. Quindi dicevo, noi stiamo formando professionisti a mestieri che ancora non esistono. Quindi la prima caratteristica che deve avere la nostra modalità, la nostra offerta formativa è la flessibilità. L'interoperabilità, parola che piace molto al mio amico Ferruccio Reis, infatti ci abbiamo costruito una categoria contrattuale insieme, ma questa è un'altra storia di cui parleremo in un altro momento. L'interoperabilità significa che quella piramide che tu hai descritto deve poter essere percorsa e con una certa fluidità. Il problema delle competenze non è solo formarle, le università si stanno adattando e anche con una certa celerità e le università da sole non ce la farebbero. Bisogna mettere insieme università, enti di ricerca, strutture private, ancora una volta bisogna fare ecosistema, cioè bisogna, come dice il CEO di Ferrari, togliersi la giacca dell'ego e mettersi la giacca dell'ecosistema, perché solo così tutto può funzionare. Sulle competenze sono quindi in progress, non c'è STEM senza humanities, perché le due cose vanno di pari passo. Voi sapete benissimo che alla Borsa di New York, alla Stock Exchange ci sono dei filosofi che insegnano il metodo computazionale prima ancora di fare il training agli algoritmi o ragionamenti aritmetici, quindi ecco, mai come adesso interoperabilità, flessibilità, ibridazione e soprattutto velocità, apertura, apertura alle nuove suggestioni. L'Italia è in ritardo in Europa e l'Europa è in ritardo nel mondo per forza. Noi non dobbiamo inseguire alcune tecnologie in cui non saremo mai, come posso dire, i funding fathers o mothers, Emma. Noi dobbiamo essere forti nelle cose in cui siamo forti, per esempio l'intelligenza artificiale noi dobbiamo valorizzare tutto il nuovo, ma abbiamo nuove tecnologie straordinarie e straordinariamente sfidanti come la meccanica quantistica, le tecnologie quantistiche, il quantum computing che ancora non si applica all'impresa e che paradossalmente è più nostro dell'intelligenza artificiale. Qui sono passata dalle competenze alla ricerca, secondo punto, quindi non si preoccupi direttore perché sto procedendo a una mia razio. E su questi temi noi dobbiamo continuare a ricercare, ma ricercare in maniera creativa, con ricerca di base che diventa ricerca applicata e immediatamente si riflette sull'impresa. Questo è quello che noi stiamo cercando di fare, non dare soluzione di continuità ai diversi modelli formativi e alla ricerca. La ricerca deve essere immediatamente trasferita. Noi veniamo da generazioni di accademici, i nostri nonni, per certi versi anche i nostri padri, che consideravano l'università una sorta di, come posso dire, turris e burnia che doveva proteggere la vera ricerca, quella di base, dai venti della realtà. Non è più così. L'università è un mondo aperto, non è neanche più un campus, è proprio un ecosistema, è un luogo di assoluta permeabilità, che deve condividere le questioni, deve condividere l'innovazione, deve condividere soprattutto un setting valoriale da cui non si può prescindere, perché, ripeto, non c'è intelligenza artificiale senza antropocentrismo. L'intelligenza artificiale deve essere al servizio dell'essere umano, che a monte programma gli algoritmi, fa il training agli algoritmi e a valle elabora le serie storiche. Ultimo tema, e con questo mi fermo, le infrastrutture. Su questo, Donatella, secondo me dobbiamo riflettere ancora. Avete posto il problema dei cervelli. Io sono stata più volte cazziata furiosamente per aver detto io non ho nulla in contrario all'uscita, non alla fuga, all'uscita dei cervelli. Ci mancherebbe altro. Se qualcuno va a risciacquare i panni in altri mondi, con altre competenze, tu sei appena tornata dalla Cina, sud-est asiatico, India, mondi, Giappone, Israele, che anche diplomazia culturale. Vi faccio un esempio. Fabiola Giannotti, che è stata keynote speaker, non solamente qui, ma anche al nostro G7 della ricerca ministeriale e ricerca innovazione di Bologna, ha concluso il suo speech con un esempio, che noi conoscevamo già, ma che dà la misura di quanto la diplomazia scientifica, culturale, accademica, sia importante per fare ecosistema globale, ripeto, orizzontale e verticale. Al confine tra la Giordania e la Siria c'è un'infrastruttura, un acceleratore di particelle, che in questo momento si applica solo a Artificial Intelligence on Cultural Heritage, che è un'altra sfida interessantissima, soprattutto per un paese come il nostro, che vede tra i suoi fondatori l'Egitto, l'Italia, Israele, la Palestina e l'Iran, che lavorano tutti insieme. Ecco, questa si chiama diplomazia scientifica ed è questo l'obiettivo a cui dobbiamo tendere, perché queste tecnologie non possono essere solo domestiche o europee, noi ci confrontiamo col mondo, il nostro benchmark ormai è assolutamente globale, quindi dobbiamo puntare su infrastrutture di ricerca nostre e questo è l'investimento, Donatella, come tu ben sai che noi stiamo facendo. Stiamo investendo su infrastrutture di ricerca concrete, su temi innovativi, sfidanti come l'HPC, High Performance Computing, Big Data and Quantum Technologies, sull'Agritech, l'agricoltura non si fa più solamente con i trattori e il lavoro dell'uomo, ma con i droni, i satelliti, non mi dilungo, il contrasto alla biodiversità attraverso la subacquea, terapie geniche, farmaci o tecnologie RNA, mobilità sostenibile, MOST, sono centri nazionali su cui noi abbiamo investito tanti fondi, parte PNRR e parte fondi nostri nazionali, che per noi rappresentano l'attrattore naturale della ricerca e quindi dei ricercatori, non basta fare loro sgravi fiscali, per carità è importante, però se li chiudi in una stanzetta con il loro computerino e gli isoli dal resto della comunità scientifica se ne vanno o comunque non tornano, quindi il nostro obiettivo è mettere insieme questi tre punti, ricerca, competenze e infrastrutture, altro tema su cui dobbiamo lavorare moltissimo, noi stiamo già lavorando, già investendo, ma continueremo a farlo con tutta la forza che abbiamo, perché oltre a questi che sono i centri nazionali, i fiori all'occhiello del PNRR, su cui però, ripeto, stiamo investendo anche fondi nazionali, ci sono anche partenariati estesi, ecosistemi dell'innovazione, infrastrutture di ricerca innovative, Einstein Telescope, il nostro fiori all'occhiello, Marina Calderone, diciamo, Razzione Loci, Genius Loci, perché dovrebbe, questo è un rilevatore di onde gravitazionali sensibilissimo, super innovativo, per cui stiamo concorrendo in Europa, per averlo in Sardegna, in una miniera dismessa a Sosenatos, Lula, provincia di Nuoro, Barbagia, e questo vi dà la misura di come l'ecosistema possa essere un mondo, cioè noi vogliamo una città della scienza in Sardegna per strappare i territori all'abbandono e trasformarli in luoghi della ricerca, della conoscenza, dell'interoperabilità, dello scambio, queste sono le infrastrutture su cui noi stiamo puntando. E questo è il senso, diciamo, del nostro ecosistema. Grazie. Grazie.